Senatore Gasparri questa sera ad Aversa per sostenere la candidatura di Giampaolo De Lovicario. Lei ha detto Aversa è un laboratorio politico dove il centro-destra ha trovato l'unità. Mi pare che sia stata una scelta saggia quella sia di Caserta che di Aversa di tenere unite le forze del centro-destra anche perché qui c'è troppo trasformismo, opportunismo di gente che sfugge di qua e di là mentre noi proponiamo con De Lovicario una candidatura radicata in questo territorio nella vita politica e amministrativa di Aversa per una tradizione anche antica ma che trova in lui una proiezione verso il futuro. C'è una compagine che non si vergogna di ostentare simboli politici perché Aversa è una città importante non può essere amministrata fuori da un sistema di relazioni politiche che la possa rilanciare come realtà laboriosa, operosa, tesa anche a valorizzare le sue antiche e tradizionali vocazioni nel campo dei prodotti di qualità che noi dobbiamo valorizzare nei contesti internazionali. La presenza mia che ovviamente si aggiunge a quella ben più importante e odrevole del Presidente Berlusconi non vuole essere un modo per sfuggire ai temi del territorio che i nostri candidati e il nostro candidato al sindaco hanno interpretato in maniera molto chiara ma di aggiungere forza, determinazione, sostegno politico a una sfida importante e quindi l'appello agli elettori in queste ultime ore a evitare di cadere nei soliti giochini di vecchi clientelismi, trasformismi, finti civismi che poi sono tentativi di appropriarsi della pubblica amministrazione mentre invece noi vogliamo darla ai cittadini attraverso una guida dinamica, radicata e efficiente. Lei ha anche allargato gli orizzonti, l'ha aggiunto un appello a respingere Renzi a mettere in campo tutte le forze per dare un segnale di svolta all'Italia. Guardi Renzi, la mia governa da due anni, è aumentato il numero degli immigrati, è aumentato il numero dei disoccupati, è aumentato il numero dei truffati perché le aziende che devono essere pagate perché avevano crediti con la pubblica amministrazione falliscono senza vedere soldi che gli sono dovuti e così anche quelli che hanno preso gli 80 euro un milione e mezzo devono restituire i soldi salvo poi ricordarsi che ai pensionati che ne avevano più bisogno quel beneficio non è stato dato. Ora si occupa di una Costituzione che vorrebbe utilizzare per trasformare un 30% di voti in una maggioranza assoluta in grado di egemonizzare Parlamento e Corte Costituzionale a fronte di questo unire forze per impedire a questo progetto non utile socialmente all'Italia che sta peggiorando la qualità dei nostri territori con questi arrivi massicci di immigrati con una crisi economica che perdura credo che sia doveroso. Trovarsi qui da Versa un passo avanti in questa consapevolezza di chiarezza politica di coesione nella coalizione credo che sia un vantaggio ed è per questo che confidiamo anche che la valutazione sul programma amministrativo sia generosa e positiva da parte degli elettori di Versa.